Ciao a tutti amici di autoprove.it e benvenuti alla prova su strada della nuova Mazda CX-30 2022 Avviciniamoci per conoscerla meglio e benvenuti alla nuova Mazda CX-30 2022 Mazda CX-30 in allestimento speciale Omura uno sguardo intanto alle dimensioni larga 1,79 m lunga 4,39 m alta 1,54 m non passa certo inosservata soprattutto in questa versione speciale vi dicevo Omura vernice opzionale polimetal grey cerchi in lega da 18 pollici aspetto nel frontale veramente cattivissimo con questa griglia bassa che si protende lateralmente i globe ai fari anteriori peccato però che non siano full led infatti le luci DLR le stanno alogene io questa scelta non l'ho capita perché qua sotto c'è tanto bella la bacchetta led per la freccia direzionale effettivamente potevano essere localizzate lì anche in questo allestimento molto bello vi dicevo questo cerchio da 18 pollici vedete la spalla generosa buono l'assorbimento in tutte le condizioni il design di Mazda CX-30 saranno passati degli anni ma a me continua a piacere tantissimo la linea di cintura non sale molto verso il retro il tetto però scende il look è veramente da coupé dietro molto bello questo lunotto fortemente inclinato fanali posteriori a sviluppo orizzontale una chicca che a me piace tantissimo sono le luci le frecce direzionali che sono led ma vedete hanno una dinamica di funzionamento molto simile a quella della lampadina alogena paraurti in plastica bello solido e robusto ma qua sotto guardate là due scarichi che sono veri e di questi tempi diventa sempre più raro non manca il badge che ci ricorda che siamo al volante della motorizzazione ibrida leggera da 186 cavalli ingresso Kiles quindi teniamo comodamente la chiave in tasca e accediamo all'interno dell'abitacolo ed eccolo qui l'abitacolo di Mazda CX30 in allestimento speciale Omura ingresso Kiles accensione con un semplice tasto a rivelarci un quadro strumenti che non è completamente digitale ma vedete presenta un ampio schermo a colori centrale TFT da 7 pollici la plancia resta dominata dallo schermo da 8,8 pollici previsto per il sistema di infotainment centrale un bel abitacolo qualità altissima plastiche che sono tutte morbide cuciture a vista quindi assemblaggi di primo ordine voglio partire dal volante comoda l'impugnatura i comandi sono ben gestibili abbiamo vedete sul lato sinistro la possibilità di gestire i media alziamo abbassiamo il volume switchiamo fra i media in riproduzione gestiamo le chiamate lato destro del volante invece per la gestione dei tanti sistemi ADAS presenti a bordo della vettura partendo quindi dal quadro strumenti non è completamente digitale schermo TFT centrale a colori da 7 pollici vedete conserviamo a sinistra e a destra i quadranti analogici giri motore temperatura dell'acqua livello del carburante livello del carburante che visualizziamo anche nello schermo digitale espresso come autonomia residua ma anche vedete a sinistra invece abbiamo l'informazione per quanto riguarda il consumo la media consumi di carburante l'elemento centrale del nostro quadro strumenti può essere poi personalizzato per avere una visuale un po' più classica per avere la media consumi per avere vedete come in questo caso il funzionamento degli ADAS non so se si nota ma lì c'è anche l'head up display che proietta proprio all'altezza dei nostri occhi le informazioni principali quindi ad esempio la velocità alla quale stiamo viaggiando l'ultimo limite di velocità che abbiamo incontrato se la navigazione attiva viene anche lei riprodotta all'interno dell'head up display sicuramente un dispositivo molto utile perché ci evita di distogliere lo sguardo dalla strada vi dicevo la plancia è dominata dallo schermo da 8,8 pollici del sistema di infotainment centrale dinamica operativa che è molto fluida e intuitiva come siamo abituati in casa Mazda quindi abbiamo sostanzialmente la home 5 le principali scorciatoie informazioni intrattenimento comunicazione navigazione oppure l'accesso alle impostazioni per quanto riguarda le informazioni andiamo a visualizzare ad esempio il monitor efficienza carburante quindi la dinamica di funzionamento del nostro sistema mild hybrid per quanto riguarda invece l'intrattenimento andiamo chiaramente a collegare il nostro smartphone alla vettura mirroring apple carplay e android auto ma anche connettività chiaramente bluetooth non manca la radio che è anche digitale tornando indietro vi faccio vedere la navigazione visualizziamo le aree di servizio nei paraggi visualizziamo i parcheggi più vicini insomma tutto veramente a portata di mano e poi dalle impostazioni semplicemente personalizziamo quella che è la nostra esperienza al volante in questo caso non abbiamo il sistema audio Bose ad esempio abbiamo il sistema audio proprietario di Mazda io lo trovo decisamente buono anche a livello qualitativo qua sotto rimane l'impostazione con i comandi per il clima a me piace questa scelta quindi brava Mazda che ha voluto mantenerli climatizzatore che è un bizona vedete gestiamo individualmente o insieme la temperatura lato conducente lato passeggero anteriore gestiamo il direzionamento del flusso c'è questo schermo insomma le informazioni sono assolutamente ben chiare e visibili qua sotto invece abbiamo la possibilità di riscaldare su tre posizioni il sedile lato conducente lato passeggero anteriore eccomi allora al volante di Mazda CX30 in allestimento speciale Omura per raccontarvi come va su strada questo SUV di segmento C sicuramente una vettura molto interessante che avevo già provato in occasione del centesimo anniversario di Mazda ma che oggi ritrovo nell'allestimento speciale Omura ovvero nella versione chiamata a tirare fuori quel giusto mix di concretezza e sportività che da sempre caratterizza il marchio Mazda protagonista di questa prova il 2000 e Skyactiv-X nella versione da 186 cavalli trazione soltanto anteriore vettura decisamente interessante grazie alla tecnologia ibrida leggera che ci permette un taglio importante a consumi ed emissioni parlando della dinamica di guida sicuramente il volante mi ha sorpreso in positivo assolutamente diretto preciso capace di muovere al meglio la massa dell'auto che comunque non è limitatissima parliamo di circa 1500 kg parliamo comunque di una vettura dalle dimensioni generose larga 1,79 m lunga 4,39 m alta 1,54 m sicuramente una vettura dal baricentro alto tende a rollio tende a coricarsi in curva però la dinamica SUV devo dire che è attutita molto bene a bordo di questa CX30 si viaggia assolutamente nel comfort chiaramente non bisogna strafare perché poi in curva ad alta velocità il rollio un po' si sente però lo sterzo ci permette di direzionare molto bene la vettura di gestire molto bene la massa altra nota positiva le sospensioni assorbono molto bene le buche c'è stato secondo me un lavoro importante a livello di sospensioni il cerchio in lega da 18 pollici ha una buona spalla quindi nei fatti assorbiamo bene le asperità stradali protagonista vi dicevo di questa prova l'ibrido leggero da 186 cavalli una motorizzazione piena perché si sente che è una vettura capace di tirare fuori prestazioni interessanti abbiamo un 2000 è vero aspirato però un 2000 a quattro cilindri quindi la vettura ha la potenza giusta la voce c'è 186 cavalli non sono pochi riusciamo ad esprimere 240 newton per metro di coppia grazie all'apporto del validissimo cambio manuale a sei rapporti brava Mazda perché questo manuale a sei rapporti lo avevo già provato sulla Mazda 3 oggettivamente è assolutamente preciso affilato ci permette veramente di sentire l'auto e avere un'esperienza di guida decisamente immersiva parlando quindi di ibrido leggero parliamo nei fatti di un motore che abbina al termico un piccolo starter a cinghia un piccolo motorino elettrico una piccola batteria nei fatti l'alimentazione ibrida leggera ci permette vi dicevo un taglio a consumi ed emissioni perché va ad aiutare la vettura soprattutto in quelle fasi in cui il termico tradizionalmente soffre di più come quella in cui mi trovo adesso la ripartenza a semaforo verde chiaramente la dinamica del sistema ibrido leggero ci permette quindi di aiutare il motore termico e quindi ridurre i consumi ed emissioni vi dicevo la mia media consumi è stata molto interessante 6 litri su 100 chilometri nel circuito misto quindi consideriamo urbano extraurbano autostrada quindi nei fatti significa fare circa 17 chilometri con un litro dato molto buono si potrebbe leggermente limare perché non ho fatto particolare attenzione al discorso consumi però sicuramente una media molto molto interessante capitolo dotazioni capitolo sistemi di sicurezza attiva ADAS c'è sostanzialmente la guida autonoma di secondo livello abbiamo il cruise control adattivo settiamo la velocità alla quale vogliamo viaggiare ma anche la distanza che la vettura deve mantenere dalle auto che ci precedono dai veicoli che ci precedono abbiamo il blind spot quindi ci sono dei led in corrispondenza agli specchietti esterni che ci avvisano della presenza di veicoli o motoveicoli in avvicinamento laterale abbiamo la frenata automatica ad emergenza abbiamo il radar per il traffico posteriore questo permette di attivare la frenata automatica ad emergenza anche in fase di uscita parcheggio cosa non banale perché comunque c'è un tema visibilità posteriore limitata abbiamo la lettura dei segnali stradali il sistema di mantenimento di corsia col centraggio insomma c'è tutto di più per fare di quest'auto la compagna di viaggio ideale non solo sul circuito urbano ma anche soprattutto sull'extraurbano potendo percorrere anche tratte autostradali importanti senza il minimo stress e sempre all'insegna del massimo comfort c'è poi il capitolo prezzi quanto costa Mazda CX30 in questo allestimento speciale Umura beh la vettura finita come la vedete in questa prova incluso il colore esterno polimetal grey che si paga a parte costa circa 32.000 euro devo dire un prezzo decisamente competitivo non credo che sul mercato ci siano rivali a questo livello di qualità con questo livello di motorizzazione ad un prezzo analogo quindi oggettivamente la ricetta Mazda resta sempre quella valida sempre quella di successo quindi combinare un allestimento poi pieno ricco di dotazione ad un prezzo finito che è decisamente contenuto prima di tornare a mostrarvi altri dettagli dall'abitacolo di Mazda CX30 in allestimento Mura ci tengo però a parlarvi delle cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute dal test sicuramente a piacermi il design è vero è passato qualche anno dal lancio commerciale di questa generazione di Mazda CX30 ma a me continua a convincere tantissimo frontale aggressivo e basso linee di cintura tesa tetto che scende verso il retro e look coupé veramente una vettura che a me piace molto fuori ma oggettivamente anche dentro dove il livello qualitativo è altissimo parlando delle cose che mi sono piaciute il motore questo Escai Active X è oggettivamente una rivelazione l'avevo già conosciuto su Mazda 3 infatti abbina ad una buonissima coppia ad una buona ripresa perché lo 0-100 è coperto in 8,3 secondi e progrediamo fino a 204 km orari quindi abbina a prestazioni meccaniche elevatissime un comfort di guida importante e quindi anche una riduzione di consumi ed emissioni grazie al librido leggero fra le cose che mi sono piaciute sicuramente le tecnologie perché abbiamo la guida autonoma di secondo livello e questo garantisce sicurezza comfort anche sulle lunghe percorrenze venendo invece alle cose che non mi sono piaciute c'è sicuramente il tema visibilità posteriore limitata l'unotto contenuto montanti generosi abbiamo un terzo finestrino che è più virtuale che reale quindi dietro effettivamente si vede poco e in questo allestimento mura peraltro non abbiamo la telecamera a 360 gradi ma solo la retrocamera altra cosa che non mi ha convinto la dinamica di funzionamento del sistema di infotainment centrale devo dire a me non dispiace il fatto che abbiamo il rotore le scorciatoie e quant'altro però sicuramente il touch ci agevola molto nell'interazione con la vettura c'è poi l'aspetto di alcune dotazioni anche questo non mi ha convinto per quale motivo non prevedere anche su questa versione qui omura le luci led nel caso delle dlr e abbiamo ancora l'alogeno seppur poi in basso vi facevo vedere all'inizio del video abbiamo la freccia direzionale che è led insomma questa piccolezza insomma mazda prevede anche in questo caso la luce diurna led anche nel caso in cui come su questa vettura non si vanno a scegliere i fari anteriori opzionali matrix che io comunque consiglio tantissimo costano circa un migliaio di euro però garantiscono veramente un'illuminazione ottimale in tutte le condizioni di guida plancia ergonomica razionale con questa bacchetta metallizzata che la percorre completamente ingloba le bocchette per il clima si raccorda idealmente ai pannelli porta qua sotto abbiamo uno spazio nel quale alloggiare il nostro smartphone manca la ricarica wireless abbiamo due pratici porta bottiglie e bicchieri la leva del fidato cambio manuale a sei rapporti qui nel tunnel abbiamo i selettori per gestire il sistema di infotainment centrale che non è touch ma come avrete notato insomma si comanda in maniera decisamente agile bisogna un attimino prenderci la mano avrei preferito effettivamente un touch freno a mano elettrico abbiamo quindi qui le scorciatoie qui gestiamo i media in riproduzione alziamo abbassiamo il volume switchiamo semplicemente spostando il rotore fra i vari media in riproduzione qui in tasto jolly possiamo andare a richiamare un'impostazione per noi utile settandola e quindi gestendola attraverso questo tasto bracciolo centrale molto generoso vedete la cucitura anche qui dell'allestimento speciale o mura scorre in avanti e indietro quindi ci garantisce un buon comfort ed è assolutamente capiente e profondo cosa c'è qua dentro due ingressi usb tipo a per la ricarica dello smartphone una presa da 12 volt uno sguardo ai sedili in questo caso abbiamo il sedile in tessuto riprende però la cucitura rossa che troviamo sulla plancia sui pannelli porta e anche qui a livello del tunnel sono comodi avvolgenti veramente ben fatti cielo che non è in colonne nero ma a contrasto con la colorazione dell'abitacolo abbiamo poi le luci ambiente che sono led vi porto adesso a dare uno sguardo all'abitabilità posteriore abitabilità posteriore che resta buona grazie al generoso passo di due metri e sessanta vi faccio dare uno sguardo adesso ho arretrato completamente il sedile di guida mi restano ancora centimetri buoni per le ginocchia come mi restano ancora centimetri buoni per la testa vi facevo vedere da fuori il tetto tende a scendere molto verso il retro io sono alto un metro e ottanta sto effettivamente comodo quinto posto che è più virtuale che reale perché vedete c'è un ingombro importante legato al tunnel centrale sebbene questa non sia la versione a trazione integrale dietro si viaggia nel comfort perché abbiamo le bocchette per il clima eccole qua manca purtroppo un ingresso usb per la ricarica degli smartphone abbiamo il bracciolo centrale con due pratici porta bottiglie e bicchieri noterete il tema visibilità posteriore due montanti molto generosi l'unotto contenuto ed inclinato abbiamo quel terzo finestrino che però nei fatti non ci aiuta moltissimo vi mostro adesso il bagagliaio generoso di questa mazda cx30 430 litri ingresso automatizzato lo gestiamo attraverso il telecomando della vettura noterete il piano di carico generoso da terra finitura in plastica che io apprezzo tantissimo perché ci ripara dai famosi microurti cittadini così come nel caso dei passaruota esterni alla vettura bagagliaio abbastanza generoso disposizione 60-40 cosa c'è qua sotto c'è la possibilità di modulare la superficie di carico grazie a questa paratia però non abbiamo ulteriore spazio perché sostanzialmente non c'è neanche la ruota di scorta questa allora era la prova su strada della mazda cx30 in allestimento speciale omura adesso voglio sentire la vostra ditemi tutto quello che ne pensate qua sotto nei commenti perché leggo e rispondo volentieri a tutti prima di salutarci però l'invito è quello solito andate a curiosare su tutti i vari social di autoprove.it i vari facebook twitter instagram seguite il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori ma soprattutto iscrivetevi a questo canale youtube perché ci troviamo sempre qui per la prossima prova su strada ciao